Ben trovati al meteo. Alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, bel tempo e caldo anomalo per il periodo. Vediamo il dettaglio di giovedì 20 ottobre. Sul Veneto precipitazioni assenti. Nella prima metà della giornata cielo sereno, ma sempre con locali foschie e nebbie in pianura e nelle valli, specie nelle ore più fredde. Nel corso del pomeriggio poi nuvolosità in aumento. Temperature stazionarie minime tra 11 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con cielo da poco nuvoloso a localmente coperto, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 12-16 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non avremo molte novità, perché anche qui sarà soleggiato con cielo prevalentemente sereno. Addensamenti poi in progressivo aumento. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie per l'attenzione.